è di Sonny Colbrelli la Coppa Bernocchi 2017. Il velocista della Barai Merida è il più forte sul traguardo di Legnano e batte in volata Guillaume Boivin, Kickling Academy, e Saka Modolo, mentre è medaglia al legno il vincitore di ieri, Michael Albasini, che diventa così il favorito alla vittoria finale del trittico Lombardo. La corsa è stata caratterizzata dalla fuga composta da Filippo Ganna, M.A.E., Sergei Vdovin, Loco Spinks, El Medico Cri, Dimension Data for Cubeca, e Patrick Gamper, Tirol. I quattro perdono dopo pochi chilometri l'apporto di Vdovin, rialzatosi forse per ordini di squadra, ma il terzetto insiste nella fuga trovando il via libera del gruppo. Il plotone incomincia ad inseguire dal chilometro 57 di gara quando la nazionale italiana, la Villier Triestina e la Barai Merida mettono i propri uomini in testa a tirare. Il frutto del lavoro di queste squadre si vede al penultimo giro del circuito, quando il gruppo si spezza sulle pendenze del piccolo Stelvio sotto il ritmo della nazionale italiana. Boet, Fortunio Oscaro, e Ria Buschenko, M.A.E., provano ad evadere dal gruppo nell'ultima scalata al piccolo Stelvio, ma il gruppo non lascia margine da azione e l'azione dei due coraggiosi ciclisti termina poco dopo, mentre davanti è Cochri ad alzare bandiera bianca. Negli ultimi 30 chilometri ci sono vari tentativi d'evasione dal gruppo. Lorenzo Ruota, Bardiani, è quello che riesce ad avere più fortuna, ma la sua azione all'inseguimento della coppia di testa si esaurisce a 10.000 metri dal traguardo. Nel frattempo scoppia il duo al comando della gara, e ad arrendersi è Ganna, che lascia così Gamper solo al comando. L'austriaco insiste nell'azione e sogna la vittoria, che però sfuma a poche centinaia di metri dallo strascione d'arrivo quando il gruppo lo passa a doppia velocità lanciando Colbrelli verso la vittoria.